Prende voi. Ripeti. Grande cane! Grande! Scendi tu cosa fare? Faccio... Faccio del male. Ripeti. Lascia la sedia lì. Ah ok. Adesso gira. C'è qualcuno che ha scelto qualche odore interessante. Ma fanno buttare più di uscite. E? Un'occhiotta! Ehi la signora, vieni qua! Ehi la testa! Ehi la testa! Ehi la testa! Ehi la testa! Ripeti! Super cane! È sort! Ma sei un genio! Ma sei un genio!